ciao a tutti oggi un antipasto uno tira l'altro quante volte vi rimangono delle patate lesse e il giorno dopo non sapete cosa fare ecco qui questa bella ricettina sistemate le fettine di speck o pancetta o capocollo sul piano di lavoro taggiate su ogni fetta una fetta di patata lessa mettete un po di sale e un po di pipe se lo gradite un quadratino di formaggio di vostro gradimento io ho messo della scamorza affumicata e un'altra fetta di patata lessa infine condiamo con un filo d'olio rivolgiamo completamente con lo speck i bauletti di patata e poggiateli in una teglia unta di olio inforniamo a 200 gradi solo il grill per pochi minuti il tempo di far sciogliere il formaggio iniziosi veloci e saporiti ciao e alla prossima videoricetta ciao